Buongiorno amici, bentornati sul mio canale, Longevity Now, Longevity Now e FL. Oggi parleremo di una malattia, una seria malattia, che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. La depressione. Sì, avete capito bene, la depressione. In particolare, esamineremo l'eccezionale impatto che l'esercizio fisico può avere nel prevenire, ridurre o alleviare i sintomi della depressione. La depressione, conosciuta anche come disturbo depressivo maggiore, è sempre più diffusa nel mondo occidentale, poi discuteremo in altri video il perché, e può avere un impatto devastante sulla qualità della vita dell'individuo. La depressione va oltre il semplice sentimento di tristezza e si manifesta con una serie di sintomi che influenzano il pensiero, il comportamento e persino la salute metabolica e fisica. Chi ha sperimentato questa condizione comprende bene di cosa sto parlando e sa che la depressione può influenzare il benessere psicofisico tanto quanto o più di altre situazioni stressanti come ad esempio una separazione, un divorzio o la morte di un familiare. E' fondamentale sottolineare che la depressione non solo appunto colpisce la salute emozionale, mentale, psicologica, ma può anche peggiorare altre malattie già esistenti o indurle. Ad esempio le persone affette da depressione hanno un rischio più elevato di sviluppare malattie cardiache a causa dello stress cortisolico del sistema simpatico-parasimpatico che hanno un effetto continuo sul sistema cardiovascolare. Inoltre la depressione può aumentare, no può aumentare, sappiamo che aumenta i livelli di infiammazione e danneggia il sistema immunitario rendendo le persone depresse più suscettibili allo sviluppo di cancro, demenza e tante altre patologie. Anche se ci sono trattamenti efficaci disponibili per la depressione, come una gamma di farmaci antidepressivi, terapia psicologica, non tutti i pazienti rispondono positivamente a questi interventi. Alcuni sono resistenti a questi interventi. Altri individui possono trovare difficile accettare la necessità di trattamento o possono sperimentare effetti collaterali indesiderati dai farmaci. Questo sottolinea l'importanza di esplorare opzioni alternative e complementari per il trattamento della depressione, come l'esercizio fisico, la meditazione e altre terapie basate sul benessere mentale. Oggi, in questo video, ci concentreremo sugli effetti dell'esercizio fisico, discutendo i risultati di uno studio scientifico molto interessante appena pubblicato sulla prestigiosa rivista BMJ, il British Medical Journal. Ah, tenevo a precisarci, amici miei, piccolo gruppo di privilegiati, che sul mio canale si parla di scienza, risultati scientifici. Alcuni possono trovarlo noioso, ma a me piace parlare delle più recenti e autorevoli scoperte, naturalmente filtrate ed integrate in una prospettiva scientifica sui meccanismi che regolano i processi di invecchiamento, la salute e la longevità. E ci tengo a dire che tre decenni di pratica della professione medica, studi e ricerca nelle più prestigiose università del mondo garantiscono una visione clinica, olistica e approfondita di questi argomenti e nel mio canale non trovano spazio convinzioni personali, pregiudizi, conflitti di interesse, dilettantismo e approssimazione. Vabbè, torniamo al dunque, torniamo al dunque, discutiamo di questo paper molto interessante. Questa è una rivisione sistematica e meta-analisi di 218 studi clinici randomizzati, appena pubblicata sul BMJ, che conferma l'effetto benefico dell'esercizio fisico nella terapia della depressione. Questo studio dimostra l'efficacia di varie modalità, quindi ci sono diverse modalità di esercizio fisico che hanno un effetto nel combattere la depressione e vanno dalla camminata, alla corsa, a praticare yoga, all'allevamento di pesi, sono tutte emerse come particolarmente utili, soprattutto se eseguite ad intensità più elevate. Ma non disperiamo perché lo studio dimostra che anche attività fisiche più lievi, appunto come camminare, praticare hatha yoga, hanno degli effetti clinicamente significativi, ma come ho detto, se facciamo i livelli più intensi, quindi se invece di fare la camminata corriamo, facciamo addirittura high intensity interval training, gli effetti prodotti sono più evidenti e più significativi, come vedete in questa figura. E' altresì interessante notare che alcune modalità si sono dimostrate più efficaci per specifiche categorie demografiche, ad esempio il sollevamento di pesi ha mostrato una maggiore efficacia nelle donne, mentre lo yoga e il qigong negli uomini. Inoltre l'età gioca un ruolo, sembrerebbe che lo yoga sia particolarmente benefico per gli adulti più anziani, mentre gli allenamenti di esistenza in palestra con i pesi per gli individui più giovani, soprattutto se ne beneficiano le donne. Infine, è cruciale sottolineare che i benefici dell'esercizio si sono estesi a diverse popolazioni, indipendentemente dalle comorbidità o i livelli iniziali di depressione. Sebbene gli effetti complessivi sulla depressione siano moderati, in genere, si sono comunque dimostrati paragonabili a trattamenti consolidati come la psicoterapia, sia come trattamento singolo che in combinazione. Per correttezza scientifica vanno tuttavia sottolineati i limiti dello studio, con solo un trial che soddisfa i criteri Cochrane per basso rischio di bias. Nonostante questo, i risultati evidenziano il potenziale dell'esercizio come prezioso strumento di intervento per la depressione, sia come terapia preventiva che aggiuntiva per la cura della depressione. In conclusione, come ho già sottolineato in precedenti video, nelle mie pubblicazioni scientifiche e nei miei libri, l'esercizio regolare offre numerose, molteplici benefici, oltre a quelli appunto sul fitness, la salute metabolica, cardiometabolica, anche appunto sulla salute mentale, psicologica. I fattori in gioco che mediano questo effetto sono molteplici. Il più importante sembrerebbe essere la produzione di BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, un potente fattore di crescita che svolge un ruolo cruciale, viene prodotto in risposta a diverse molecole che vengono secrete dal muscolo quando si fa attività fisica, la catepsina B e l'irisina, che viaggiano attraverso il sangue, arrivano al cervello e lì stimano la produzione del BDNF, che è importantissimo nella promozione della salute mentale perché va a riorganizzare, stimola la produzione di reti sinaptiche, quindi è importante per la memoria, ma si è visto in diversi studi scientifici che è anche un effetto antidepressivo, senza avere gli effetti collaterali avversi dei farmaci antipertensivi. Quindi, che si tratti di una camminata svelta, di una sessione di yoga o di sollevare dei pesi, quindi ricordiamoci che ogni passo, ogni stretching, ogni allungamento, ogni sessione di sollevamento dei pesi può contribuire a un futuro più sano, luminoso e felice. E con questo è tutto per oggi, come sempre vi saluto, questo è Longevity Now, Longevity Now FL, il canale della scienza, della filosofia, del benessere, della salute e del benessere. Io, a chi vi parla, come sempre Luigi Fontana, medico specialista, professore di medicina, direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic e del Health for Life Program dell'Università di Sydney e un accademico clinico del Dipartimento di Endocrinologia del Royal Prince Alfred Hospital di Sydney.